Aiutare significa seguire il proprio cuore, perché la nostra felicità deriva da ciò che offriamo. Significa donare il proprio tempo, essere presenti. Aiutare, mettere a disposizione le proprie capacità e sentirsi soddisfatti delle sfide superate. Delle vite salvate. Siamo soccorritori perché una volta che indossi l'uniforme, diventa parte di te e non la toglierai più. Noi ci siamo sempre e voi vi fidate di noi. Aiutare significa dare speranza dove questa non c'è. Donare una carezza. Ma non siamo supereroi. Siamo figli. Genitori, fratelli. Siamo soccorritori. Siamo noi. Fa parte di noi. E' parte del nostro cuore. Da 150 anni, la Croce Rossa italiana è impegnata in prima linea nella prevenzione, risposta e mitigazione dei fattori di vulnerabilità che minacciano la vita e la salute delle persone. Operando senza distinzioni alcune di nazionalità, razza, genere, credenze religiose, classe e opinione politica. La nostra forza si basa su una rete di 150.000 volontari, sulla nostra presenza sul territorio e nelle comunità e sulla nostra funzione ausiliaria dei pubblici poteri in ambito umanitario. Lavoriamo per prevenire e alleviare le sofferenze e contribuire al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della pace. Aiutare Significa seguire il proprio cuore Perché la nostra felicità deriva da ciò che offriamo Significa donare il proprio cuore Il proprio tempo Essere presenti Aiutare Mettere a disposizione le proprie capacità e sentirsi soddisfatti delle sfide superate Delle vite salvate Siamo soccorritori perché una volta che indossi l'uniforme diventa parte di te E non la toglierai più Noi ci siamo sempre E voi vi fidate di noi Aiutare significa dare speranza dove questa non c'è Donare una carezza Ma non siamo supererò Siamo figli Genitori Siamo soccorritori Siamo noi Fa parte di noi E parte del nostro cuore